Buongiorno ragazzi, oggi prendete la letteratura e spiegheremo la struttura dell'inferno. Andate a pagina 42. Bene, iniziamo a leggere. Enrico, vai. Oh, fammi vedere la foto. Oh, è venuta benissimo. Cosa faccia? La maniava tutti? Dai, dai. Vai, dai, vai. Uh, Luca! Uh, Luca! Che cari! Che gusto! Facciamo una cosa molto piccata. Che figura! E adesso che faccio? Io ne parlo con mia mamma. E noi lo andiamo a vedere, professore. Però, Frank, è successa una cosa bravissima. Guardi che cosa è una foto da lì. Cosa è successo? Oh, ma è terribile. No. Chi è stato? Sono state due nostri compagni di classe. Sono davvero più utenti. Provederemo. Mamma, papà, vi devo dire una cosa. Che è successo? Dicci pure. Due bulli hanno pubblicato una foto del mio diario su internet. È gravissima sta cosa. Dammi i contatti dei suoi genitori. Caro, vediamo cosa possiamo fare. Va bene. Amici, scusaci. Volevamo solo giocare un po'. Dai, non è successo niente. Grazie.